Un saluto amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, è il day after della sentenza a Cervi e purtroppo ci devo tornare sopra, è inevitabile. Io credo, l'ho già detto, che questa sia, per me, per lo meno per come la sto vivendo io, la sosta più insopportabile degli ultimi anni, una sosta fatta di ignoranza, di tifo di parte, una sosta che ha rivelato veramente la natura social, spero solo social e non reale, di questo paese. Purtroppo non vedo l'ora, non ne posso più ragazzi, non vedo l'ora che si torni a giocare perché davvero non se ne può più. Il day after della sentenza a Cervi non poteva non lasciare strascichi, lo sapevo già, in qualunque caso ci sarebbero stati strascichi polemici, però vi vorrei parlare di una cosa tipica di questo paese, culturalmente secondo me arretrato, ed è lo sdegno di parte, lo sdegno a corrente alternata, a doppia velocità. Ognuno si sdegna, e questa la cosa più indegna, scusate il gioco di parole, unicamente, per certi eventi, in nome e per conto, tra l'altro nemmeno richiesto, della sua squadra del cuore. Che il Napoli si stringa attorno a Juan Jesus che faccia quadrato è logico, posso anche capirlo. Però perché parlo di sdegno a due velocità? Qualcuno di voi ricorda che cosa accadde il 19 gennaio del 2016? Beh, se qualcuno non lo ricorda, glielo ricordo io. Il 19 gennaio del 2016 si gioca un quarto di finale di Coppa Italia a Napoli, l'allenatore dell'Inter è Mancini, l'allenatore del Napoli è Sarri. L'Inter si impone per 2 a 0, segna Jovetic per i nerazzurri e gli Aic, che praticamente raddoppia tempo scaduto. Mancini a quel punto, vicino a portare via la vittoria e la qualificazione, si alza e chiede all'arbitro, o forse protesta con l'arbitro, eh, per carità, sul recupero che è di 5 minuti. C'è un quarto uomo di bello. A un certo punto, però, la scena si sposta sulla panchina perché c'è un diverbio tra Sarri e Mancini. Che cosa è successo? Che cosa è successo lo racconta Mancini a fine partita. Leggo le cronache del tempo. Mancini sostiene che Sarri, quando lo ha visto alzarsi per chiedere il recupero, gli abbia urlato, non è ben chiaro, parole come froccio e finocchio. Parole gravi. Parole gravi come quelle che molti, non il giudice, vista la sentenza a Cerbi, ritengono che a Cerbi abbia pronunciato all'indirizzo di Juan Jesus. La cosa incredibile è che Sarri, è il primo a dire in quell'occasione, no, ma io non so esattamente cosa ho detto, forse volevo dirgli, in realtà volevo dirgli fighetto per come si veste, perché sembra sempre che io vado in tuta e lui va a un ricevimento, sembra che vada a un ricevimento in panchina, boh, potevo dirgli democristiano, potevo dirgli fighetto e se ho usato quelle parole, mi scuso, ma sono cose di campo che devono restare in campo. All'epoca nessuno si scandalizzò e il Napoli che oggi fa un comunicato dicendo è una vergogna questa sentenza, non aderiremo più alle iniziative della Lega contro il razzismo, se vede il Napoli cosa fa? Fa un comunicato dicendo praticamente all'Inter Massu, ma cosa volete che sia? Sono cose di campo e in campo devono rimanere e si è scusato, da quanto abbiamo capito anche a Cerbi forse si è scusato per qualcosa in campo, no? A me sembra che al di là della diversa natura degli insulti che sono entrambi altamente discriminatori, ma forse dal 2016 al 2024 devo arguere che è cambiata la percezione generale, il Napoli fu il primo insomma a volerla liquidare così. Tra l'altro Sarri fu condannato a pagare 20.000 euro di multa, praticamente niente, e a due giornate di squalifica in Coppa Italia. Mancini se la prese moltissimo, disse che in Inghilterra, dove era lui stato, cose del genere, poi ci sarebbe andato anche Sarri, cose del genere non sarebbero state consentite che Sarri a 60 anni si doveva solo vergognare di quello che aveva detto, ma Sarri continuò a minimizzare. E devo dire che il dispositivo della sentenza fu abbastanza curioso, perché per spiegare una condanna così lieve si disse che siccome Mancini non ha mai fatto nella sua vita coming out, siccome Mancini non è omosessuale, parliamoci chiaro, non lo è, le parole di Sarri vanno intese come un tentativo maldestro di offenderlo. Ragazzi non lo so, possiamo discutere di tutto, ma francamente quella sentenza lasciò perplesso per esempio il mondo omosessuale che reagì molto duramente. Anche all'epoca si chiese quasi la crocifissione, l'impiccagione di Sarri, quello che oggi, malgrado una sentenza del giudice che, ripeto, l'ho detto cento volte, non è riuscito a trovare la benché minima prova indiziaria, ma non per questo nella sentenza sostiene che Juan Gesù sia un bugiardo, dice soltanto non lo ha sentito nessuno, ho chiamato tutti e nessuno l'ha sentito, c'è la tua parola contro la sua, io non posso condannare una persona perché uno, e non è il caso di Juan Gesù, si può svegliare alla mattina e dice quello mi ha detto questa parola. E oggi il Napoli che è così attento giustamente a dire non condividiamo la sentenza, Juan Gesù non è un bugiardo e nessuno lo dice nel dispositivo, ragazzi nessuno lo dice, anche io i miei problemi con i fanatici interisti perché io ritengo che a Cerbi quella parola l'abbia potuta dire, però io ho l'umiltà vedete, di fermarmi davanti a una sentenza del giudice. Nel momento in cui c'è una sentenza del giudice che mi dice non ho a disposizione alcuna prova indiziaria e per questo non posso condannare una persona, io vorrei che quelli che scrivono i censori, i social censori di mezza tacca da quattro soldi, proprio dall'ignoranza trasparente, già come aprono bocca, fossero condannati loro sull'onda di una cosa che io dico al primo che passa per strada. Poi vediamo, vediamo se c'è da ridere. Quindi all'epoca ci fu questo dispositivo abbastanza strano, siccome Mancini non ha mai fatto coming out, gli si può dare anche dell'omosessuale, qual è il problema? Cioè è soltanto una cosa maldestra e Sarri e il Napoli con il comunicato, ce l'ho qua davanti il comunicato, dissero in tutti i modi che era una cosa di campo. Conoscendo lo spessore umano e culturale del nostro allenatore, il Napoli non ha mai nutrito alcun dubbio in merito al proprio tecnico. Il giudice ha escluso, quindi si faceva una forza della sentenza, che il tono delle parole di Sarri possa essere discriminatorio, c'è scritto una sentenza e ospichiamo che Mancini accetti le scuse. Mancini accettò le scuse, l'Inter accettò le scuse. Il Napoli sembra in qualche modo voler andare avanti su questa vicenda e qui è ovviamente spalleggiato da individui social con i quali francamente io nemmeno parlo, quindi ripeto ne parlo perché tutti mi scrivono come la pensi tu, ma ripeto non è importante come la penso io, non è minimamente importante come la penso io, perché davanti a una sentenza dello Stato, la chiamo così, la sentenza dello Stato tu la puoi non condividere ma fa legge. E quindi mi spiace, ma dico al Napoli, però all'epoca sugli insulti a Mancini, caro Napoli da questo punto di vista, fosti il primo, comprensibilmente, a voler ridimensionare l'episodio, a volerlo tenere in campo. Ora mi pare che invece non ti vada bene questa soluzione, la soluzione di chiuderla qui, che tra l'altro ti deve andare bene per forza, forse non ci siamo capiti, deve andare bene per forza sia i colpevolisti, sia gli innocentisti, sia i garantisti, sia quelli che nemmeno sanno leggere un dispositivo di una sentenza, perché quando c'è una sentenza del giudice c'è una pietra tombale sull'evento. Quindi acerbi a tutti i diritti di tornare a giocare a pallone, senza squalifica, perché è stato assolto. Ripeto, non è stato, lo ripeto per l'ennesima volta, non è stato assolto in forza del fatto che Juan Jesus abbia raccontato il falso. È stato assolto perché non si è trovata la benché minima prova indiziaria rispetto ad altri casi di giustizia sportiva in cui qualcosa c'era, anche una minima testimonianza, per corroborare la tesi dell'uno rispetto all'altro. E quindi mi spiace prendere atto ancora una volta che in questo paese di fanatici, in nome del tifo, di partigiani da una parte e dall'altra, e io rifuggo dagli uni e dagli altri, lo sdegno è sempre e comunque a corrente alternata, a doppia velocità. Vi suggerirei di andarvi a rileggere tutta la vicenda Mancini-Sarri del 2016. Possiamo dire che nel frattempo è cambiata la percezione di certi insulti? Si è aggravata? Va bene, diciamolo puro. All'epoca il Napoli ebbe tutto l'interesse in qualche modo a dire su sono cose di campo e sono cose che devono restare in campo. Giusto o sbagliato? Non lo so. Resta il fatto che come in questo caso giusto o sbagliato? Non lo so. Ha deciso un giudice e quando decide un giudice non esiste che gli altri si trasformino in giudici perché non hanno né gli strumenti culturali né la lucidità, ovviamente, per dare sentenze. Non tocca a loro dare sentenze. Però che lo sdegno in questo paese continui a restare a doppia velocità, di comodo, di facciate a corrente alternata, è un fatto mettendo insieme questi due episodi. Non ne posso più. Io comunque vada da domani torno a parlare di calcio giocato. Santo Dio. Ciao a tutti.